Inter-Juve 1-2, ma il Dex? Il Dex purtroppo si vedono poche carte quindi ci possiamo distrarre un attimino E quindi si guarda anche la partita Il problema è che sono interista quindi non sono buonissime notizie Speriamo almeno per il fantacalcio, c'avevo Palacio, li accontenterò L'importante però è che arrivino buone notizie al Dex Sì, la partita è ormai quasi finita e speriamo che arrivino le carte almeno iniziamo a giocare a poker